Oggi vi presento il classico taglio che si esegue per la sella d'agnello. Per prima cosa giriamo la sella d'agnello con i filetti mignon verso l'alto. Eliminiamo gli ambi esterni della sella che sono stati conservati in modo da ottenere una cottura uniforme. Posizioniamo la sella con i filetti verso l'alto e tagliamo lungo la colonna vertebrale, facendo poi scivolare il coltello lungo le costole. Facciamo ruoteare la sella d'agnello e procediamo nello stesso modo per l'altro filetto. Voltiamo la sella e asportiamo i filetti mignon. Facciamo ben attenzione a tenere le rambe e il coltello il più vicino possibile alle costole. Potrete servirla in questo modo oppure tagliando il filetto in medaglioni e il filetto mignon in diagonale. Si no, lasciate più lungo le stanno e guardate piùicolo un po' di scella. Per me fanno incontrere un po' di scella, basta fare il vanno perché i filetti torriano le coste di essere un po' di scella. La scella di giratti, ma poi struttare l'aggio per un certo modo. Facciamo un po' di scella, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi. Grazie a tutti.